Io credo che oggi in aula molti abbiano parlato di emendamenti, di fiducia, di regolamenti parlamentari. Pochi, se non Alessandro Zane e qualche altro intervento, ha parlato di uomini e di donne, di persone e di diritti. Oggi dovevamo discutere di quello e mi dispiace per chi ha perso questa occasione di dare un contributo, di dare una mano per approvare questa legge, ma si è limitato a parlare di cavilli regolamentari.